ciao fragoline e ciao fragolini allora questa volta ci sono i grattevinci che sono due però il 10 per io ho scelto questi due che costano di meno sono due euro però vinci di più infatti questo grattevinci è il mio preferito vi ho già spoilerato nel primo video i grattevinci che grattiamo sia in questo video che nel terzo per cui adesso vediamo se abbiamo vinto e volevo anche avvisare che quello che faccio io non lo dovete fare voi in senso che sono non dovete comprare grattevinci e buttare i soldi così perché alla fine non vince non vince una cifra esagerata almeno che hai un culo ma dato che come vi faccio vedere io spendo 2 euro 3 euro non è che vado a spendere 15 euro 20 euro di grattevinci almeno che ne prendo tanti allora ci sta io lo faccio perché mi piace fare questi video e poi vedo che il risultato delle visualizzazioni è alto e che la gente guarda questi video perché piace guardarli perché se no è normale che io non li facevo per cui mi raccomando non comprate i grattevinci almeno che volete spendere 2 euro tanto per giocare ci sta ma mi raccomando non è stato attenti perché poi dopo se prendete il vizio dopo la voglia continua sempre a dire no prendo però non ho vinto no all'inizio facevo così poi dopo smesso poi ho visto che facendo i video giustamente mi diverte e poi precisiamo una cosa se le visualizzazioni sono alte e io faccio questi video io ci guadagno con youtube per cui il guadagno che prendo da youtube lo spendo ogni tanto sul grattevinci non è che prendo il mio stipendio dicono adesso mi metto a spendere 200 euro per comprare i grattevinci ma non ci penso neanche se divento ricca o se guadagno 10 mila euro per farvi capire per cui voglio dirvi questo mi raccomando se volete spendere cioè giocare a questi grattevinci mi raccomando non spendete più di 5 euro perché non ne vale la pena vi dico anche che mio nonno continuava sempre a spendere 10 euro 5 euro no faceva 10 euro un grattevinci e 20 euro un altro e spendeva ogni giorno tanti soldi per vedere se vincevi una cifra esagerata lui prendeva il milionario per cui io continuavo a dire tanto alla fine non vinci inutile che spendi soldi sono soldi buttati dopo un po che ha capito che non vincevi la cifra che volevi alla fine ha smesso di giocare però vi assicuro che mio nonno ne prendeva di grattevinci ne spendeva cioè no prendeva tre grattevinci al giorno ma più di 10 euro per cui spendeva più di molto più di 50 euro un giorno e poi alla fine ha visto che ovviamente non vincevi una cifra esagerata vincevi solo 5 10 euro ogni tanto vince anche 100 euro eccetera ma comunque vi assicuro che fa male giocare a questo gioco per cui io investo su youtube i grattevinci non perché con i miei soldi il lavoro che faccio giustamente mi metto a spendere soldi solo per fare dei video fare i grattevinci no volevo precisare questa cosa dato che ho ricevuto un commento che ho scritto e ma invece di spendere i soldi o metterteli da parte li spendi tanto per tirartela eccetera no perché sennò a quest'ora non ero qui a prescindere che io ho un lavoro e non sono una che spende e poi per due euro dai cioè sarebbe dire vabbè 10 euro che ci sta ma due euro c'è ma davvero per cui mi raccomando comunque io vi ho diciamo volevo avvisare di questa cosa qua ma tanto riceverò ancora sempre stessi commenti allora proviamo a vedere se vinciamo uno di questi grattevinci per cui vi lascio al video allora c'è stato un problema vi spiego in breve che cosa è successo perché io mi accorta dopo che ho grattato io adesso vi faccio vedere i grattevinci che sono questi io questi grattevinci li ho grattati intanto che stavo registrando la registrazione andava stavo grattando a un certo punto quando finito di grattare che ovviamente vi ho spiegato le cose vi ho fatto vedere i numeri e se abbiamo vinto è successo che quando ho diciamo stoppato la registrazione per fare l'altra clip e farvi vedere se abbiamo vinto o non abbiamo vinto alla fine ho fatto un casino in senso che grazie al mio cellulare di puntini puntini questo in poche parole io uso questo ogni tanto per registrare ma dato che questo telefono ha pochi gigabyte e ovviamente io posso registrare massimo due video di 20 minuti massimo ma neanche forse un video di 20 minuti ci sta con il telefono perché giustamente il mio telefono ha pochi giga e quando c'è pochi giga che la memoria è piena o c'ho troppe cose dentro giustamente non mi registra la clip non mi registra il video io mi sono accorta dopo che ho finito di grattare ho finito di vedere la clip perché ogni tanto quando finisco stoppo la registrazione mi va sul telefono e poi riguardo la clip se giusta invece questa volta sono stata sfigata per cui direi che questo video sarà un video diverso un video cioè io lo metto lo stesso per cui scusate se questo video è così io lo metto lo stesso per farvi capire che ci sono anche gli sbagli dietro quando tu registra eccetera per cui ovviamente devi stare anche attenta a registrare stare dietro e c'è tanto lavoro per quello che voglio mettere questo video anche se non vi ho fatto vedere che ho grattato per cui io vi chiedo scusa per questo per questa seconda parte per fortuna questi due biglietti sono perdenti perché tanto vi lascio poi la clip dove vi dico che i biglietti sono perdenti e niente vi faccio vedere i numeri questi qua allora c'era il 28 il 12 il 27 e il 26 come i numeri io invece ho trovato il 29 il 40 41 22 20 18 33 32 44 e 19 segnateli perché forse vince 38 sto scherzando io ho trovato questi ovviamente la cifra era alta in senso che c'era 300 1000 20 3000 e per cui questo biglietto era perdente stessa cosa come l'altro che c'era il 42 16 20 23 e tutti gli altri cifra altissima con 10.300 e anche questo è perdente per cui io ve le faccio lo stesso vedere anche se scusate ma sarà un video un po' diverso da tutti gli altri video dei gratifinci però ovviamente succedono queste cose per cui io preferisco mettere la verità di quello che succede degli sbagli e spero prima o poi anzi spero novembre di comprare un nuovo telefono perché non mi bastano i giga che ho nel mio telefono giustamente con tante applicazioni le foto i video tutto il resto per fortuna ho un altro telefono che non è mio però diciamo che è in prestito e grazie a questo le clip non si perdono spero che riesco a registrare la prossima volta non registro con il mio iphone registro con questo telefono perché poi se succede la stessa cosa e immaginatevi se io vinco al gratifinci che ne so vinco 20 euro vinco 10.000 euro magari e poi mi ritrovo che la registrazione non è andata come vi avevo già detto nell'altro video sinceramente poi è brutto per cui scusate se questo video è così cioè un video un po' parlato invece di essere un gratifinci ma volevo farvi vedere e spiegarvi questa cosa qua che può succedere per cui almeno così capite che anche se i video anche se il video dura dieci minuti cinque minuti otto minuti sapete che per me il video come si dura più di un'ora perché ora che registro questo video ora che vedo le clip eccetera ci vuole tanto lavoro dietro per cui vi ho detto la verità e vi ho fatto vedere che ci sono anche i problemi dietro a questi video per cui appunto se tu gratti un gratifinci intanto che registri poi vai a vedere che come pensi di aver registrato e poi alla fine non è così poi te la metti in quel posto perché dici capo gratifinci non puoi tornare indietro a grattare perché ormai è grattato ciao per cui scusate se questo video dura tanto scusate per questo problema spero lo stesso che vi piace questo video lasciatemi un like per il supporto perché non me la sono non me l'aspettavo che non mi registrava sta clip mi sto già impappinando e niente vi lascio alla seconda anzi è la terza clip che ho registrato dicendo che giustamente non sono vincenti questi gratifinci per cui scusate non so più cosa dire ci sono rimasta un po un po male quando ho visto che la clip non era registrata vabbè spero che questa volta c'è solo questa e basta che non succede più vi lascio la seconda alla terza clip ok direi che neanche questi due gratifinci ci hanno portato fortuna di solito io quando prendo questo gratifinci 10 per vinco sempre anche un prezzo alto tipo 5 10 euro l'altra volta avevo vinto 15 euro però è stato quel giorno in cui io non ho registrato e non ho fatto il video giustamente quando tu non registri non fai video ovviamente vinci una cifra alta comunque niente io comunque ripeto prendo lo stesso ancora questi anzi la prossima volta voglio provare il 20 per vediamo se se col 20 per riesco a vincere qualcosa dato che non l'ho mai provato ho provato solo questo qua va bene io direi che il video finisce qua grazie per chi l'ha guardato tutto e grazie per chi lascerà un commento qua sotto quello che volete detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao